ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato la copertina dell'agenda 2019 per mia figlia ha recuperato questa agenda ma visto che era abbastanza anonima mi ha chiesto di farle una copertina un pochino originale non l'ho ancora vista ma spero che spero che le piaccia allora per realizzare questa questa copertina in mix media ho utilizzato tutto materiale stamperia adesso vi faccio vedere alcuni materiali che utilizzato poi durante appunto il procedimento del lavoro se ho dimenticato qualcosa lo vedrete nel nel mentre lo utilizzo e quindi il gesso come base la evi body past per per imprimere lo stencil i vari acqua color tutti iridescenti che utilizzato per per colorare la copertina delle paste delle paste che utilizzato per per aggiungere ulteriore stencil e poi questi colori che uso tantissimo che sono dei metallizzati che ho utilizzato per per mettere in rilievo tutti vedete tutti questi particolari poi ho usato cosa fondamentale per me l'allegro ombra che utilizzato per fare tutte le ombre e vi faccio ancora vedere allora lo stencil che utilizzato è questo è quello che utilizzato per fare per fare la base e poi il l'album alchemy dal cui dal quale ho praticamente ritagliato i vari questo questa carta scrap che vedete con dove ho realizzato la scritta 2019 e questo particolare che ho messo sotto la scritta take your time detto questo non resta che vedere come ho effettivamente realizzato questo lavoro ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.